La pausa caffè merita velmoca L'attività iniziata nel 1969 nel settore della distribuzione automatica è stata ampliata nel 1973 con l'impianto di torrefazione del caffè Grandi e piccole comunità, dall'industria al piccolo ufficio vengono fornite puntualmente con un servizio che risponde alle esigenze di ogni cliente La qualità è garantita dall'uso di prodotti di marca e distributori sempre più nuovi e tecnologicamente avanzati Punto di forza dell'azienda è soprattutto la torrefazione che oltre a produrre miscele pregiate usate nei distributori automatici Conta anche molti clienti come bar e ristoranti di Milano e provincia